buonasera buonasera a tutti rieccomi con voi questa sera più pimpante che mai perché ci sono tante belle novità nei modelli che eh in gran parte fittano confermano tutte le ipotesi che vi avevo fatto nei giorni scorsi e che mano a mano si vanno definendo per questo motivo iscrivetevi al canale YouTube cliccate la campanellina per essere aggiornati sulle sui video che andranno via via a ad essere prodotti e perché ne faremo tanti vi assicuro non ho nessuna estensione di smettere perché stiamo entrando veramente nel vivo oggi giornata calda molto calda me la sono goduta in pieno si poteva stare benissimo al mare in molte regioni d'Italia lo sappiamo è una anomalia calda molto marcata ma che sta per terminare esattamente nei tempi che avevo detto già nei giorni scorsi eccola qua ma guardate che belle carte sì avete letto bene anche neve nelle regioni centrali ovviamente le scritte devo farle entrare un po' nel contesto italiano non è che nevicherà a tappeto su tutto l'apenino centrale ma che cosa sta succedendo da diciamo eh come dicevo ieri a correnti meridionali si sostituiranno correnti occidentali e nord occidentali e già a martedì nuvolosità abbastanza diffusa sarà presente nelle regioni settentrionali con qualche pioggia nel Golfo Ligure e scomparirà l'anomalia calda eh nelle regioni del nord poi successivamente l'immagine fa riferimento alla nuova più intensa perturbazione che passerà piuttosto velocemente ma sarà molto incisiva con temporali anche grandinate venti forti che entreranno da come vedete anche dall'immagine da maestrale e da Bora quindi eh brusca diminuzione delle temperature questa volta e visti i valori attuali che dieci dodici gradi forse anche di più ad esempio nell'alto adriatico quindi finisce il caldo finisce l'anomalia eh si un paio di giorni di burrasca autunnale poi si torna su valori consoni nella media del periodo magari anche leggermente sopra media ma insomma eh il classico autunno e poi ci sono altre novità molto interessanti a scala misperica che eh il modello americano ad esempio sta già facendo intravedere nel lungo termine che confermano esattamente quanto avevo detto in passato quindi seguite attentamente questo editoriale seguitelo fino alla fine perché c'è tantissimo da dire e non lasciate le cose a metà mi raccomando allora condividiamo subito la immagine satellitare guardate qua e questo è il solito la solita minestra diciamo con velocità che da sud scorre verso nord nel continente europeo a ovest dell'Italia ma con qualche velatura che è già entrata a nord ovest per il resto cieli sereni caldo e tutti al mare che per il trento ottobre è abbastanza però però qualcosa sta cambiando ora ve lo faccio vedere andiamo sui modelli allora scorriamo quella che eh iniziamo dal presente questo è l'anticiclone africano cinque mila metri si vede bene geopotenziale cioè pressione molto elevate e questa è la saccatura cioè la bassa pressione che direttamente dall'artico canadese si protende verso l'atlantico poi che succede ancora un paio di giorni di stallo poi ecco qua arriviamo al già il due che entra dell'area più fresca al nord e poi ecco qua una prima ondulazione ci spedisce direttamente un impulso freddo dal dal mare del nord mare di Norvegia che taglia completamente l'Italia vedete il verde il verde indica geopotenziali basse pressioni che entrano sull'Italia con aria fredda una goccia fredda che si distacca questo pallino verde che vedete e finisce il caldo finisce l'era del caldo potremmo dire poi si ristabilisce un po' la pressione ma continuano ad arrivare dal nord ovest con un anticiclone sempre forte questa volta sulla Spagna vicino atlantico continuano ad arrivare impulsi gocce fredde disturbi anche da nord est quindi non si ristabilisce la fase calda e poi guardate c'è tutta una tradizione verso ovest e questo vi avevo avvertito dell'anticiclone delle azorre guardate cosa fa migra con i massimi pressori verso l'atlantico e punta poi verso l'agroillandia ecco la saccatura impressionante saccatura lobo del vortice polare gelido che si protende verso l'Europa con valori anche di meno trentacinque gradi cinquemila metri che già si rompe sull'Italia questa è solo una proiezione lontana ma che ci dà l'idea di quello di cosa sta succedendo anche a scala emisferica ovvero nessuna è stata infinita fino a dicembre tutto in movimento e potrebbe arrivare anche qualcosa di molto importante allora questa è l'emisferica ve la farò vedere dopo com'è articolata vi voglio però far vedere prima il modello americano che propone delle carte interessantissime queste sono le temperature a mille e cinquecento metri guardate il caldo attuale veramente caldo sedici diciassette gradi impressionante soprattutto al nord guardate che succede di tre ore in tre ore guardate trentuno ottobre martedì uno ecco qua arrivano si riaffigiano il primi il primo raffreddamento con le prime piogge nel golfo ligure martedì intendiamoci quindi poi continuano guardate le aria fredda come entra mille e cinquecento metri il tre novembre giovedì tre avevo detto tre quattro novembre ed eccolo qua il passaggio guardate guardate il verde che entra sono valori molto più freddi temperatura una vera e propria burrasca scende lungo l'adriatico con un nocciolo con un vortice molto intenso quello che viene previsto ora e poi va giù va giù e guardate le le temperature come scendono scendono fino a zero gradi a mille cinquecento metri da quindici gradi che vi avevo fatto vedere e allora interrompo la condivisione e allora che cosa sta accadendo quindi in a mille cinquecento metri di quota quindi le quote indicative per verificare come si spostano le masse l'aria calda e fredda esenti da influenze della morfologia del territorio indiegano un abbassamento dei valori il tre quattro novembre soprattutto il quattro per quattro e cinque dieci quindici gradi in alcune località quindi una decina di gradi quindi vuol dire che finisce il caldo segnate le date quattro novembre la sera del quattro eh già al centro nord sarà molto fresca e ventosa molto vento anche di bora quindi finisce questo caldo adesso vi faccio vedere qualche immagine delle mie elaborazioni per farvi capire vi avevo detto questa è la situazione attuale alta pressione sull'Europa bassa pressione in Atlanta ma poi che succede guardate qua entra guardate che immagine quella che vi ho fatto prima come articolata contemporanea sull'Italia e questa è il modello europeo guardate quante precipitazioni e ve lo faccio anche vedere si passa quindi a questa e sarà molto probabilmente molto più presente in novembre bassa pressione sull'Europa alta pressione sul nel vicino Atlantico quindi la saccatura che arriva da noi e che eh diciamo eh fornisce un'inversione rispetto che a quello che era il trend precedente ricordate quindi alta pressione da noi bassa pressione in Atlantico si inverte tutto ve l'avevo detto questa immagine qui ce lo mostra chiaramente e vi faccio vedere un'ultima cosa perché ci tenevo anche a mostrarvi questa del modello europeo condividiamola eccola qui eh ve la ve la faccio vedere immediatamente eccola dov'è eccolo qua eccolo allora queste sono le piogge previste dal modello europeo in avanzamento tra il tre a partire dal pomeriggio del tre guardate quanta quant'acqua che arriva secondo il modello europeo guardate come avanzano prima il nord anche intense intense al nord poi avanzano nel centro Italia e poi sfilano questo ha già siamo già al cinque quindi due giorni di piogge che attraversano l'Italia prima al nord centro e sud finisce l'era del caldo arrivano le precipitazioni nevicate quindi sulle Alpi e qualche spolverata in Appennino ripeto in Appennino e sarà possibile quindi la mattina del cinque novembre avere qualche cima ambientata in Appennino rispetto a quello che è la situazione attuale uno stravolgimento con questo vi saluto vi abbraccio e continuate a seguire e vediamo chi ha ragione ve l'avevo anche detto prima e speriamo che vada tutto così un abbraccio ciao 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 ciao